Per la prima volta i pazienti possono avere una voce presso le autorità, presso gli enti e anche presso le compagnie farmaceutiche, le università e i centri di ricerca, una voce che renda chiaro quali sono i loro bisogni. Il bisogno del paziente con dermatite atopica è innanzitutto il bisogno di essere ascoltato e poi il bisogno di avere una guida, una guida chiara. Non esistono al momento percorsi diagnostico-terapeutici chiari per i pazienti affetti da dermatite atopica. Le terapie si basano ancora molto sull'empirismo e poco sulle conoscenze scientifiche eppure sono elevatissime in questo momento sulla patogenesi della malattia. Porto un esempio. Ho visitato un mese e mezzo fa una paziente che era affetta da psoriasi, aveva le mani completamente ricoperte di placche psoriasiche e la paziente mi ha detto io ho un colloquio di lavoro, cosa devo dire al mio datore di lavoro? Io andrò a fare la cameriera? Quello non mi assume. Nella psoriasi noi sappiamo che per forme gravi possiamo dare farmaci estremamente efficaci. Gli ho detto di così al tuo prossimo datore di lavoro, tu mi devi prendere perché quello che ho sulle mani e quello che ho sul corpo scomparirà quasi sicuramente nel giro di 15-20 giorni. L'ho rivista recentemente e questa paziente è stata assunta. La stessa cosa al momento non posso dire per i pazienti affetti da dermatite atopica. Una paziente che tra l'altro ha accettato di esporre anche al pubblico il suo disagio, questa paziente, anche lei ricoperta da dermatite atopica, lavora a McDonald's e lavora in cucina perché non può avere rapporti con il pubblico, almeno per il suo datore di lavoro. Il mio sogno è che grazie anche all'associazione dei pazienti affetti da dermatite atopica, l'Andea, fra un anno, fra sei mesi, io possa dire la stessa cosa alla paziente affetta da dermatite atopica che ho detto alla paziente affetta da psoriasi, cioè che entro un mese la sua malattia sparirà e che lei potrà avere una qualità di vita come tutti gli altri.